Posso dire che siamo dei polli? Tutti? Tutti a cominciare da me che sono il pollo più grande, anzi il pesce preso al lamo più grande? Perché? Perché una volta uscivano i trailer ed erano semplicemente dei trailer. Ma una volta, non dico di 50-60 anni fa quando era tutta campagna, che poi 50 anni fa non era tutta campagna, perché nel 1974 c'era un sacco di inquinamento e non era tutta campagna, quindi ormai dovremmo anche cambiare questo nostro modo di pensare. Però 10-15 anni fa i trailer erano solamente dei trailer, andavi al cinema o li vedevi su Coming Soon, quei momenti che c'erano del solito nel pomeriggio quando alla televisione, vedevi passare un po' di trailer che mediamente duravano 30 secondi, 40 secondi, un minuto a star proprio larghi, in cui sostanzialmente ti facevano vedere chi erano gli attori del film, capivi se il film era un film d'amore o un film d'azione e più o meno un'idea che la facevi, ti facevano vedere tre o quattro scene un po' particolari per farti venire la voglia di andare al cinema e poi lasciavano a te. Volevi andare al cinema? Ah, ci andavi. Se non volevi, non ci andavi. E tutto moriva lì. Oggi i trailer sono qualcosa di assurdo. Innanzitutto sono mega annunciati. Cioè, una volta usciva il trailer, perché te ne accorgevi, perché te lo ritrovavi prima di un altro film o lo trovavi nella striscia televisiva, non è che una settimana prima uscivano gli articoli guarda che quel giorno alla qualora uscirà il trailer. No, era una cosa che succedeva senza tutta questa attesa. Poi sono diventate una roba talmente seria che adesso ci fanno il trailer del trailer. Fateci caso, prima del trailer ci sono 5 secondi di immagini velocissime, quello è il trailer del trailer. Ma che senso ha nessuno? Dopodiché i trailer sono diventati lunghi. Lunghi! Io sono andato al cinema e a volte ho visto dei trailer di 3 minuti e mezzo, 4 minuti, 5 minuti di trailer. Ma che caspita, ma quello è un film! Se io vedo tutto lo svolgimento della trama dall'inizio alla fine, i personaggi che parlano, scene d'azione, colpi di scena, arrivo alla fine e dicevo, boh, grazie, ho visto il riassunto del film. Cioè, c'è della gente su TikTok che riassume i film in meno tempo del loro trailer e comunque alla fine del trailer dici, boh, io il film non lo vado a vedere perché ormai ho visto tutto. Cos'altro devo ancora andare a vedere? Lasciamo stare i film comici che in 3 minuti ti fanno vedere tutte le migliori battute del film e quindi poi tu vedi il film e dici, bello, ma queste battute le ho già viste tutte. Dopodiché i trailer si sono anche fatti furbi. Perché quando si parla di film di un certo livello, di una certa attesa, di un certo investimento economico, i trailer si sono fatti furbi perché hanno imparato a giocare con noi. Hanno imparato a lanciarci quel piccolo guanto di sfida, a lanciarci quel particolare che ci porti a discutere, che ci porti ad andare su Facebook, su Instagram, su TikTok, dovunque sia, e dire, ma a me questa cosa non è piaciuta, io l'ho odiata, non mi è piaciuta da matti, e allora litighiamo e intanto parliamo del film che così diventa ancora più conosciuto. E poi hanno iniziato a lasciare dei piccoli segni in giro, perché tanto sanno che da qualche parte, in una cameretta dell'Illinois, un 36enne che vive ancora con i genitori e che da tre giorni non esce dalla camera, tanto che da una parte c'è la madre che batte sulla porta, sei vivo, dall'altra padre sta già progettando come affittare quella camera, lui da tre giorni chiuso in camera, che fa passare ogni singolo pixel di questi quattro minuti di trailer per vedere se c'è qualcosa da poter anticipare, fino a scoprire che al minuto 2, 23 secondi, in un angolo c'è una macchia che è chiaramente la stessa macchia che si vedeva in un film del 1914, il cui titolo, anagrammato, dà un suggerimento su come il film del trailer finirà. E poi non è mai così, però intanto se ne può continuare a chiacchierare, chiacchierare, chiacchierare. Bene, una ventina di ore fa, rispetto a me che registro più o meno due giorni rispetto a voi che state guardando, tutto questo è successo per il trailer del film Il Gladiatore 2. Film che, diciamolo, arriva più di vent'anni dopo un film che ha fatto la storia come il gladiatore, film che teoricamente dovrebbe più o meno proseguire nella storia, anche se abbastanza avanti, film che è fatto dallo stesso regista del gladiatore 1, che, esattamente come allora, è un regista molto apprezzato per alcuni suoi lavori, molto criticato per altri, ma che negli ultimi anni ha molto, 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 lasciatemi dire ancora una volta, molto diviso la critica per certi suoi lavori. Tutto questo ha creato una specie di gigantesca bomba atomica che è stata semplicemente lanciata e che ha scatenato un effetto gigantesco. E a me è iniziato a suonare il cellulare. Prima, devo dire, Alfonso, sei stato il primo a segnalarmelo, Alfonso che mi manda sempre anche le immagini per la serie Imperatore in maniera molto gentile, ma dopodiché su Instagram, Facebook, altri social, Telegram, hanno iniziato ad arrivarmi le segnalazioni di persone che non solo mi dicevano guarda è uscito il trailer, mentre io l'avevo già anche visto, ma mi iniziavano a chiedere cose del tipo ma secondo te sarà un bel film? Ma secondo te sarà storicamente accurato? Ma secondo te Denzel Washington che parte fa? Ma secondo te è giusto che Denzel Washington nero faccia una parte di un film sui romani? Ma secondo te quel tetto romano così stotto è reale? Ma secondo te la trama si svilupperà? Ma secondo te quanto durerà? Ma come reciterà P.P.O.? È un trailer. È un trailer lungo, lungo, ma è un trailer. E tre quarti di queste cose che mi avete chiesto non possono avere risposta dal trailer. È assolutamente impossibile. Però me le sono state chieste più volte. Ora, io ve l'ho detto all'inizio, sono un pollo, sono un pesce. E quindi a questa gigantesca canna da pesca dell'hype lanciata con il mulinello di questo trailer ho boccato in pieno. Perché dopo aver visto il trailer mi sono fatto delle idee, ci ho iniziato a ragionare, ma soprattutto mi sono fatto delle idee su come questo trailer è stato preso. Cioè quali discussioni ha scatenato e dove queste discussioni stiano andando a parare. E quindi da bravo pesce che ha visto il piccolo vermicello e non ha saputo resistere, ho preso la lenza, mi sono fatto tirare e ho deciso di provare a parlare con voi. Non tanto del trailer, non tanto del film, quanto di come tutto questo è stato preso. Quindi se volete fare i pesci come me e cadere in questa fregatura dell'hype mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video perché ogni tanto faccio anche dei video più interessanti. Dopodiché sigla e poi in questo caldo torrido che io adoro tantissimo iniziamo a parlarne. Come vi dicevo prima, le tre domande principali che mi venivano fatte erano A. Sarà un film storicamente accurato? B. Sarà un film bello? O sarà come Napoleon? O sarà un film bello? E C. Che cosa ne pensi di Denzel Washington che fa Macrino? Ora, partiamo dalla domanda 1. Qualcuno mi ha detto guarda, nel trailer fanno vedere il Colosseo allagato mentre viene combattuto una naumachia, una battaglia tra navi, cosa che in effetti nel Colosseo era possibile fare ma probabilmente solo per i primi anni mentre all'epoca in cui ho ambientato il film non era più possibile. Qualcuno mi ha detto guarda, quelle armature sono finte, non sono esattamente corrette, sono probabilmente antecedenti di un secolo, stessi errori già fatti nel gladiatore, ma guarda, l'età dei due imperatori, Caracalla e Geta, non è realistica, sono troppo sballati di età, ma poi i loro vestiti non vanno bene, ma poi hai visto le case di Roma con tutti quei tetti così storti, quei muri, ma poi quella scena in cui si vede il Colosseo con i fori, ma senza niente intorno, ma Roma non era fatta così, ma poi il cielo... ragazzi, nel trailer c'è un gladiatore che cavalca un rinoceronte. Un gladiatore, lo ripeto, che cavalca un rinoceronte con... e a un certo punto lo cavalca standogli in piedi e tenendo le briglie. Un rinoceronte usato come una specie di cavallo che travolge le persone con tutto il muso completamente insanguinato. Ora, tutte le discussioni sulla storicità di questo film a partire da questo trailer secondo me devono essere messe all'interno di grosse scatole, queste grosse scatole impilate a formare un muro e poi questo rinoceronte ci deve essere lanciato contro a tutta forza per farle saltare per aria. È ovvio che non sarà un film storico, ma dobbiamo veramente discuterne, dobbiamo andare ad analizzare i singoli errori del film per dire che non sarà un film storico? Grazie al Pifero che non è un film storico, ma neanche Gradiatore 1 era un film storico. Ma quando mai Ridley Scott ha fatto dei film completamente storici? Persino quel capolavoro dei duellanti non è completamente storico, ma più o meno, solo lo rimanda. Ridley Scott della storia se ne sbatte, o meglio, un tempo se ne sbatteva, ma cercava di nascondere la cosa. Ai tempi del Gradiatore, ai tempi delle Crociate, di solito c'era sempre la discussione che diceva abbiamo contattato degli esperti, ci hanno detto come erano le cose, poi alcune cose le abbiamo dovute modificare per motivi di trama, perché... e poi i motivi di trama erano che nell'ultima frase del Gradiatore, senza nessun motivo, invece veniva scritto e Roma torna ad essere una Repubblica. Ma che vi siete fumati? Le Crociate è un altro film, storicamente completamente inattendibile, ma questo non ha minimamente inficiato il risultato finale. In tempi recenti, però, Ridley Scott su tutto questo ci ha iniziato a giocare, perché all'ormai venerando età di più di 85 anni, Ridley Scott ha capito che aizzare le folle di appassionati di storia sui suoi lavori serve sostanzialmente a spaccare il pubblico in metà. Perché? Perché se il film sarà bello, le persone che si arrabbieranno perché è poco storicamente accurato, saranno relativamente poche e si potrà dire ecco, vedi, i soliti radical chic che se la prendono per un film perché c'è qualche piccolo errore. Se invece il film farà schifo, come nel caso di Napoleon, si potrà dire ah, la gente a cui non piace è solo perché sono radical chic che notano gli errori e in questo modo si è più o meno sicuri che il film in un modo o nell'altro sarà preso, oltre al fatto che si è sicuri che del film se ne parlerà di più e così più persone andranno a vederla. Io sono convinto che se Ridley Scott avesse potuto all'interno di questo film avrebbe messo qualcuno con una maglietta di un college americano intento a farsi un caffè in una macchina elettrica della Nespresso in un angolo appositamente solo per far arrabbiare gli appassionati di storia perché a lui non gliene frega niente e posso dirvi se quello che ne uscirà del Gradiatore 2 sarà un bel film avrà avuto ragionissima a sbattersele della storia perché? Perché questo non è un documentario se fosse stato un documentario ci saremmo potuti arrabbiare ma dato che è un film non ci possiamo arrabbiare. Io vi rimando a quello che ho detto nella recensione di Napoleon. Un film storico ad ambientazione storica a volte può far arrabbiare se stravolge la storia ma secondo me le uniche due vere motivazioni per cui ci si può arrabbiare realmente è se A. Quel film è malfatto perché un film malfatto non è mai giustificabile e B. Se quel film stravolgendo la storia racconta una storia più brutta di quella reale. Ora io se ricordate dissi quando ci fu la scena della battaglia di Austerlitz in Napoleon che quella scena era bruttissima perché non solo quella battaglia era ridicola come era stata raccontata sembrava una cosa di bambini con i soldati che scappano sul ghiaccio e le palle di cannone che li fanno sprofondare ma perché la reale battaglia di Austerlitz aveva dei momenti bellissimi che sullo schermo avrebbero reso in maniera spettacolare e che invece erano stati tagliati senza motivo ma perché quella era stata la decisione rovinando il tutto. Il Gradiatore 2 è solo vagamente ispirato alla storia così come il Gradiatore 1 lo era recupera un periodo storico recupera qualche personaggio principale ma per il resto è completamente stravolta e peraltro si basa su una serie di personaggi che su cui di per sé ovviamente non abbiamo la mole di informazioni che abbiamo su Napoleone e che quindi possono essere maggiormente tra virgolette lavorati per il film e che ci porta al secondo punto sarà un bel film ve l'ho detto nell'introduzione che caspita ne so è un film di cui non sappiamo ancora praticamente nulla fino all'altro ieri si discuteva se Denzel Washington sarebbe stato settimio severo o chi altro e oggi sappiamo che invece è un tal Macrino e tra poco ne parleremo non sappiamo niente realmente del film per carità il trailer ci dà una trama ci dà delle idee ma come tutto questo si svilupperà non lo sappiamo ora il primo Gladiatore l'unico finora uscito era un film di cui io dico sempre oggettivamente un bel film ben girato di cui mi piacciono un sacco le scene d'azione ma che non amo particolarmente perché ha tutta quella sottotrama del complotto che è fumosa chiacchierata e alla fine non porta da nessuna parte il Gladiatore 2 oggettivamente sembra avere qualcosa di meglio da questo punto di vista innanzitutto perché sembra avere dei personaggi un po' più carismatici a portare avanti questa sottotrama del complotto Denzel Washington si può dire quello che si vuole ma è un grande attore che sa rendere molto bene i personaggi e gli do maggiori possibilità da questo punto di vista quindi almeno questo francamente a me fa sperare decisamente di più dall'altra parte alcuni elementi della trama che arrivano dal trailer sono molto classici c'è il personaggio che diventa Gladiatore perché gli è stata ammazzata la famiglia che vuole vendicarsi del generale che lo ha mandato lì c'è questo generale interpretato da Pedro Pascale che per qualche motivo ad un certo punto finisce nell'arena posso scommettere ci finisce perché ha litigato con i due imperatori o è stato considerato pericoloso chi diavolo lo sa non mi importa ed è anche possibile che alla fine i due in qualche modo si alleino perché più o meno lì si va a finire o che Pedro Pascale muoia per permettere all'altro di prendere potere non lo so non mi importa però sono degli spunti di trama è una trama potenzialmente interessante potenzialmente un po' più elaborata di quella del Gladiatore 1 ma come sarà sviluppata? Boh! cioè dal trailer di Napoleon sembrava un film della Madonna bellissimo e potenzialmente poteva esserlo e invece si è rivelato una ciofeca se andate a vedere il trailer delle crociate che ancora si trova in giro oltre che essere decisamente più ristretto sembra un filmetto un po' da quattro soldi invece per quanto anche lì poco storicamente accurato a me le crociate sono sempre piaciute perché hanno uno spirito filmico veramente veramente bello bello anche nella versione non estesa che ha dei buchi di trama ma il film oggettivamente secondo me è ben fatto quindi se questo sarà un bel film è impossibile dirlo e chiunque vi dirà sicuramente è un bellissimo film o sicuramente Scott ha fatto l'ennesimo film brutto perché ultimamente li ha fatti tutti brutti non lo sa non lo può sapere e lo vedremo solo quando il film uscirà arriviamo al terzo punto che è quello di cui si parla già da un po' di tempo cioè il casting di Denzel Washington Denzel Washington è un afroamericano quindi il problema è sempre quello il fatto che ultimamente nei film mettano persone di colore o asiatica a fare personaggi che un tempo erano bianchi eccetera eccetera sapete che è una cosa che a me non fa né caldo né freddo mi interessa che l'attore sia bravo poi certo se mi stai facendo un documentario e mi fai Alessandro Magno Nero e mi dici che è nero o Cleopatra Nera ti dico ma stai dicendo una scemenza ma per il resto francamente io posso maggiormente apprezzare un attore che assomigli somaticamente al personaggio che sta rappresentando ma francamente tra un attore che gli assomiglia molto ma è un cane e un attore che non gli assomiglia niente ma è molto bravo francamente io preferisco sempre la seconda parte e credo che nessuno di noi possa dire nulla sulle qualità attoriali di Denzel Washington di lui si è detto che avrebbe interpretato Settimio Severo e quindi siamo partiti dicendo ma Settimio Severo è vero che probabilmente aveva la pelle scura ma sicuramente nordafricano non sicuramente subsahariano quindi non c'entra niente con gli afroamericani e giù a discutere per carità giustissimo tutta questa cosa storica ma non c'entra niente col film adesso è venuto fuori che sarebbe Macrino e in effetti c'è stato un imperatore chiamato Macrino subito successivo la cui storia sembra un po' vagamente ricalcare quello che si vede nel trailer e la cosa potrebbe rimandare in quella direzione Macrino originario anche lui del nordafrica anche lui boh bianco leggermente scuro di carnagione chi se ne frega aveva origini puniche e berbere e quindi come fosse di carnagione non lo sappiamo di certo non era subsahariano ma di nuovo Denzel Washington è un attore che interpreta un personaggio in un film a cui ricordo c'è un gladiatore che cavalca un rinoceronte sempre per provare ad agganciare le cose storiche ora io non credo che Denzel Washington sia stato messo lì per avere la quota nera perché Denzel Washington è un attore fenomenale e sono contento che nella parte che secondo me sarà più difficile quella del doppio giochista che sembra aiutare qualcuno ma in realtà fa il suo gioco ci sia un personaggio così forte e un attore così bravo ci aggiungo una cosa chiunque abbia studiato la storia romana e mi rendo conto che Macrino non sia esattamente la prima cosa ma nella serie Imperatores lo troverete saprà che se Macrino è veramente quel Macrino che poi prese il potere in realtà non fece una bella fine governerà per poco tempo verrà abbattuto da una rivolta interna non sarà particolarmente ben ricordato e non è sicuramente uno dei migliori imperatori della storia quindi se veramente hanno usato lui semplicemente come quota nera forse gli avrebbero dovuto dare una parte un pochettino migliore se veramente era quello l'obiettivo evidentemente l'obiettivo però non era quello ci aggiungo che anche nel trailer e caspita stiamo sempre analizzando solo alcune scene il personaggio di Denzel Washington Macrino o meno perché poi qualcuno dice non è quello che diventerà imperatore solo un'omonimia non mi importa palesemente è un personaggio molto grigio molto grigio e anche lì non abbiamo il mega eroe ma abbiamo un personaggio grigio che interpreta tutto questo quindi sintetizzando io potrei chiudere in questo modo è un trailer non si può dire niente del film finale non sarà storico e questo invece ve lo posso dire dal tele ma avrei potuto dire anche solo sapendo che regista è la Ridley Scott ma se sarà un bel film chi se ne frega chi se ne frega punto chi se ne frega punto anche perché poi se il film ha successo inizieranno a uscire documentari magari un po' ben fatti sull'antica Roma e noi va sempre bene punto terzo Denzel Washington aspettiamo di vedere come sarà perché quello che interessa ne è non è il colore della sua pelle ma ma come reciterà io spero spero che questo film sia un bel film anche perché non è che Ridley Scott li stia proprio sbagliando tutti quelli recenti qualcuno l'ha azzeccato adesso ne ha sbagliati un po' di fila speriamo che questa sia la volta buona che venga migliore ma ne riparleremo quando il film uscirà e spero di riuscire in qualche modo andarlo a vedere al cinema se no lo recupererò in altro modo boh io mi fermo qua è stata una discussione abbastanza lunga però almeno così ne possiamo anche discutere in pace senza nessuna altra cosa questa settimana doveva uscire la recensione di Nirvana ma tranquilli la recuperiamo settimana prossima al fine l'ho già visto e di cose da parlare in maniera un po' più interessante ce ne sono così magari ve lo andate a rivedere e poi potete vedere anche la parte con spoiler a presto ciao ciao